Saluto Francesco Anfossi, caporedattore Economia di Famiglia Cristiana che ritroviamo e che ritrovo con molto piacere. Ciao Francesco, bentornato. Ciao Manuela. Buongiorno. Allora, peraltro con te abbiamo parlato proprio originariamente dell'aumento delle bollette quando ancora non sapevamo cosa ci attendeva. Guarda, dico solo l'ultima cosa per ricordare di cosa stiamo parlando e poi ti lascio un po' di riflessioni. Praticamente queste, insomma, sono state stimate le cifre che spenderemo, un rincaro medio, questo è assoutenti, un rincaro medio di 1480 euro l'anno per famiglia e per le imprese 13 miliardi in più di spese nel primo trimestre, se parliamo di dati sciocche e stangata sulle bollette. Allora, finalmente si parla di interventi strutturali, Francesco? Sì, senti, oggi è San Valentino, no? Ti hanno fatto gli auguri? No. Ti hanno regalato dei fiori? No, ancora no, ma insomma… Allora, ti spiego io perché non ti regalavano i fiori, perché quest'anno i fiori costano l'ira di Dio. Eh sì. Perfetto e perché? Proprio per l'aumento dell'energia, perché ho scoperto, abbiamo fatto anche un'inchiesta su questo, che per sbocciare i fiori nei vivai hanno bisogno di alte temperature, di 20, 21, 22 gradi. Vabbè. Bisogna accendere i riscaldamenti, ma accendere i riscaldamenti comporta un costo del carburante che è aumentato in maniera impressionante. Quindi quest'anno gli innamorati credo che riceveranno pochi, pochi, pochissimi fiori perché sono andati, sono schizzati alle stelle, sono prezzi astronomici quelli delle rose. Questo è uno dei tanti esempi di quello che sta avvenendo nella nostra società, ma non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, per quanto per esempio anche in America c'è un'impennata inflattiva non da poco, per effetto dell'aumento del carburante. La catena solitamente è questo, aumento del gas, aumento anche della corrente, perché la corrente dipende anche dalla produzione del gas, perché molte centrali vanno a gas, quindi vengono utilizzati questo tipo di energia. E poi a catena, come un effetto domino, si alzano tutti gli altri prezzi, perché ovviamente, non so, i gestori dei ristoranti, c'è un gestore di un ristorante, mio amico, che mi ha fatto vedere l'aumento della bolletta, l'ho fotografato, ce l'ho qui nel telefonino, adesso non lo faccio perché ci avrebbe un po' di tempo a cercarla, ma praticamente da, mi pare che da 1700 euro al mese di agosto è passata una roba come 7000 euro. Sì, 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 assolutamente. Stiamo vivendo un momento di grandi ricarichi, che non riguarda ovviamente soltanto la bolletta della luce, provate a vedere, è raddoppiata praticamente. Sì, proprio in questi giorni anche... Ma ovviamente tutto questo comporta un'impennata inflattiva impressionante, perché tutto quanto va a ricaricarsi sui prodotti finali. Non so, gli autotrasportatori, un pieno costa ormai migliaia di euro, di euro scusate, e quindi poi ovviamente viene ricaricato sui trasporti, poi la ditta che ha questo fornitore deve poi ricaricare. Insomma... No, no, certo, quindi tu dicevi Francesco, tu dicevi Francesco, non si riceveranno fiori, ma in realtà non si festeggeranno anche più di tanto, ma guarda, al di là... No, opere di bene, pensano niente fiori, ma opere di bene. Ok, stavo dicendo che guarda, io stamattina parlavo con alcuni locali, centro a Milano, alcuni mi dicono, va, non ci sono state effettivamente prenotazioni per la serata di San Valentino, poi al di là del fatto che si possa o meno festeggiare, si gradisca a festeggiare questa giornata, ma insomma però fa un po' specie sentire. No, no, invece, diciamo da capo redattore dell'economia vi dico andate a festeggiare San Valentino, perché aiutate gli amici ristoratori evidentemente, no? Perché se puoi vi lascio già... Però qualcuno deve aiutare anche le nostre tasche, perché per uscire a cena i prezzi sono aumentati. Certo, cercate di arrabbattarvi, però tutto questo altrimenti crea un effetto depressivo che finisce per arrecare danno anche a noi stessi. Tu hai giustamente citato gli aumenti netti all'anno, le avevo scritti qui anch'io, delle unioni consumatori, vanno dai 1300 alle 1700 euro all'anno, a seconda delle stime che vengono fatte. Siamo nel bel mezzo di un bel ginefraio, di un bel pantano. Le cause sono abbastanza note, cioè c'è innanzitutto la causa fondamentale non è tanto le tensioni tra Russia e Ucraina, perché poi la Russia per il momento ci garantisce quel 40% di gas di cui abbiamo bisogno e che ci viene dalla Russia. La causa principale che sta aumentando in maniera vertiginosa è la domanda da parte di paesi che sono in pieno boom economico, che sono la Cina e l'India, sostanzialmente anche i paesi dell'est asiatico e un po' anche Sud America in Brasile, eccetera. Quindi quello che succede è che i produttori di gas, innanzitutto aumenta la domanda e quindi ovviamente salgono i prezzi. Ma anche i produttori di gas preferiscono andare da quelle parti a vendere quello che hanno, piuttosto che da noi. Quindi l'Europa che, non soltanto l'Italia, ma in genere l'Europa non ha energia autonomamente, sono paesi energivori che hanno bisogno di energia, di importare energia, si trovano in difficoltà. Poi ci sono altre concause, per esempio le aste sulla CO2. E questi sono poi i prezzi che paghiamo alla transizione energetica che è doverosa, perché ovviamente ne stiamo facendo una battaglia da anni, quello della transizione, quello di consegnare un ambiente sostenibile, quindi lasciarlo così come per le nuove generazioni. Però questo ha un costo, perché ovviamente noi andiamo avanti per il momento con le centrali a carbone, quindi se poi facciamo a meno delle centrali a carbone e facciamo pagare giustamente delle multe, delle vere e proprie multe a chi produce CO2 e poi ci ritroviamo in queste condizioni, perché le aste di CO2 sono enormemente aumentate. Anche gli americani preferiscono con le loro metanieri, le metanieri sono delle navi che hanno degli enormi serbatoi di gas liquido che vendono poi all'Europa, ma adesso stanno dirottando le loro rotte, le stanno vendendo alla Cina. E quindi tutto questo crea questo enorme… poi tenete conto che il mondo dopo la pandemia si sta rimettendo in moto, no? E quindi c'è una fame di energia impressionante, è aumentata del 1300%, secondo gli ultimi dati. quindi tutto questo provoca… anche l'aumento della bolletta dell'energia è fondamentale, ma è soprattutto l'inflazione, l'inflazione che dovrebbe rimanere in maniera fisiologica sul 2% in Europa e addirittura nello statuto della Banca Centrale Europea e invece se non sbaglio, aiutami Emanuela, mi pare che siamo sul 4,6%. Sì, certo, siamo vicini al 5%, sì, 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 assolutamente. Assolutamente. Ecco, però su questo ti fermo per andare a riprendere alcune parole del governatore di Banca d'Italia, Visco, che a me sembrano un po' discordanti con la realtà di cui stiamo parlando, quantomeno al momento poi ci mancherebbe, le previsioni sono fatte per proiettarci nel lungo periodo, quindi chiaramente con a disposizione un po' di dati. Primo titolo per favore dalla regia, questo è quanto, in modo riassuntivo, ha detto Visco, economia in ripresa in calo debito e inflazione, cioè Visco cosa ci ha detto? Che l'aumento dell'inflazione è stato determinato sostanzialmente e in maggior parte dalla crescita dei costi energetici, però, dice, è stata una sorta di tassa, probabilmente si vedrà poi un calo, no? E quindi in buona parte sarà destinato a rientrare. Primo punto e ti chiedo cosa ne pensi. Poi ha detto, il debito pubblico italiano è in discesa dal 156 al 150% nel 2021, meglio delle attese. Debito pubblico che anche a causa della pandemia ovviamente ha visto toccare nuovi record. Anche su questo ti chiedo, insomma, cosa ne pensi. In generale, dice, l'economia è destinata a crescere, però io dico, se abbiamo ancora tutte queste questioni in pending, come facciamo a dire che l'economia sta crescendo? Cioè, è un po' uno scollamento con quella che è la situazione reale. Appunto, tu mi dici, mi hanno fatto vedere la bolletta, c'è un rincaro incredibile. La gente non prenota più nei ristoranti, neanche quando può festeggiare. Insomma, ci sono tante cause che limitano gli spostamenti e le azioni delle persone. Come facciamo a dire che tutto è in fase di risoluzione? Le banche centrali pure non sanno forse dove sbattere la testa in questo momento, stanno cercando in qualche modo di prendere posizione in modo più veloce possibile. Insomma, cosa ne pensi, Francesco, di ciò che ha detto Visco? Innanzitutto, se l'inflazione è in calo, io ne sono ben felice, se lo dice lui, che è il presidente di Banca Italia, ci mancherebbe, è bellissima questa notizia, però da quello che leggo non è così, nel senso che siamo sul 4,6%, quindi c'è un aumento dell'inflazione. Poi, se ci sia la ripresa, è una grande notizia, però bisogna vedere a vantaggio di chi va a questa ripresa, perché come ben sai, l'inflazione è chiamata la tassa dei poveri. Perché se uno guadagna 1.400 euro al mese e l'inflazione di Riosicchi ha 100 euro, è pesante come situazione. Se uno ne guadagna 10.000 al mese e l'inflazione di Riosicchi ha 500, capisci che la sente di meno, no? Certo. La sente molto di meno, anche se in termini assoluti ha perso più quello che ne guadagna 10.000. Cioè, il problema dell'inflazione, l'inflazione è una bestia, è una bestia che va a impattare soprattutto sui poveri, come una tassa, perché gli rosica potere d'acquisto. Certo. Quindi, gioire perché l'Italia è in ripresa e poi far aumentare l'inflazione come agli anni 70 è abbastanza negativa come soluzione per chi ha a cuore un minimo di giustizia sociale. Dopodiché, io credo che il governo non avesse, soprattutto il governo dei tecnici, mi riferisco al ministro dell'economia, non era molto turbato da queste impennate inflattive. Una volta tanto dobbiamo rendere atto che è stato il Parlamento, è stata l'alleanza di governo che regge il governo, cioè le forze di maggioranza che hanno, cioè quasi tutte tranne se non sbaglio i fratelli d'Italia, che hanno fatto pressioni fortissime per questi provvedimenti che vanno a diminuire almeno in parte gli effetti dell'inflazione. Altrimenti, io ricordo delle dichiarazioni del ministro dell'economia che diceva no, in questo momento non sono previsti scostamente di bilancio perché dobbiamo mantenere il bilancio, non possiamo fare interventi perché è spesa corrente, quindi non possiamo neanche utilizzare i fondi del PNRR. Capite che in questo caso, sulle ragioni di contenimento del bilancio, sul rigore del bilancio, contano molto di più le esigenze di giustizia sociale, di welfare, che devono assolutamente essere utilizzate, devono essere assolutamente, come si può dire, bisogna intervenire. Ci sono fasce della popolazione che già soffrono per la pandemia, che ho fatto l'esempio del restauratore, ci sono soltanto gli imprenditori, sono le famiglie ovviamente, tutto quanto. No, 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 ma poi ci sono anche dei settori, guarda, Francesco scusami, ci sono anche dei settori che peraltro mi sono ripromessa di risentire, tipo quelli dei lavoratori della notte, delle discoteche, per cui dopo un tempo prolungato di chiusura si parla di chiusura definitiva per il 30% di attività. Questo è solo un esempio, però strada facendo non possiamo dimenticarci che ci siamo persi per strada tanti imprenditori che hanno dovuto chiudere, soprattutto quando parliamo di piccole e medie imprese, che poi sono l'ossatura della nostra economia. Tra l'altro vanno a gettare benzina sul fuoco nelle proteste Novax, perché è gente disperata che scende poi in piazza per i loro... Ma è chiaro che dipende per cosa si protesta, però quando si protesta è perché giustamente non si hanno aiuti e si vede l'attività chiudere, dice cosa faccio io, insomma... Per quanto riguarda invece gli interventi strutturali, sono cose che dicono semplicemente per calmare la gente, per fondere un po' di fiducia, perché tutti questi... cioè la transizione ecologica ha dei tempi molto lunghi, per cui non aspettiamoci benefici a breve termine, l'unica speranza è che arrivi il prima possibile la primavera, così spegniamo i riscaldamenti e consumiamo di meno. Scusami la brutalità, ma questa è la sacrosanta verità. Chiedo alla mia regia di rimettere il titolo che avevamo fatto sulla stangata bolletta e poi passiamo oltre, ma in realtà sono... ecco, non l'ho fatto apposta, ma ecco le cifre da brivido, si gioca anche un po' sul fatto, esatto, sul doppio senso, però è vero, adesso fa ancora freddo, però il discorso è che continueremo ancora un po' e sono d'accordo con te quando dici che anche ammesso che verranno effettivamente portati avanti questi interventi strutturali, non è che vedremo il beneficio, non sono cose che si risolvono in due giorni. Ma no, siamo un paese che importa il 95-98% dell'energia, quindi è inutile farci illusioni, non è che possiamo fare delle centrali eoliche o di altro tipo, insomma, di verdi, diciamo, in due mesi, è chiaro che se ne riparla, se va bene l'anno prossimo, ma tra anni direi, quindi non c'è niente da fare, c'è da sperare nella situazione internazionale che si calmi un po' queste tensioni, questi eventi di guerra, ma soprattutto niente, non c'è nulla da fare, c'è poco da fare, insomma, se non intervenire con scostamenti di bilancio che vanno a lenire le sofferenze della popolazione meno abbiente. Ecco, Francesco, io in realtà appunto ti ripropongo anche questo titolo, crisi russa e ucraina, anche se abbiamo già detto molte cose, cosa aspettarsi? Cioè, in questi giorni le carte sembrerebbero essersi un po' rimescolate, no? Si sperava che in qualche modo invece la situazione potrebbe rientrare, dalla regia grazie il titolo, così cambiamo appunto argomento, crisi russa e ucraina, e dicevo, sembrava che la situazione potesse in qualche modo rientrare, invece sembra che ci sia ancora più incertezza, cioè nonostante i colloqui, i dialoghi tra i vari interlocutori, insomma, non siamo arrivati ancora a un dato di fatto. Ma dai dati di cui siamo in possesso in questo momento è nata una grossa partita a poker tra i tuoi blocchi occidentali e orientali dei paesi dell'est, cioè della Russia sostanzialmente, cioè è una sorta di ritorno alla guerra fredda e quindi di minacce dall'una e dall'altra parte. Gli Stati Uniti dicono di essere in possesso dei piani di invasione dell'Ucraina, l'Ucraina non fa parte della Nato, ma è difesa della Nato, insomma, i venti di guerra ci sono tutti, però ci sono anche delle opzioni per uscire, bisogna capire fino a che punto Putin e Biden che ne stiano bleffando nel contesto, diciamo, dello scacchiere economico mondiale, dello scacchiere mondiale internazionale. Vediamo, in questo momento mi piacerebbe sapere come va a finire, ma non lo so. La nostra inviata in Ucraina, noi abbiamo l'inviata a Kiev, che dice che non se l'aspettano, che sono preoccupati, ma ottimisti e fiduciosi. Guarda, ti leggo anche il messaggio effettivamente, questo mi conferma, poi ovviamente non possiamo saperlo, sono tutti rumors, piuttosto che fonti, che derivano da una presenza sul campo, come appunto la vostra inviata. Un amico scrive, dice la sua, gli statunitensi non ci hanno mai capito un tubo di guerre, mi pare che Putin abbia definito gli americani isterici, non ci sarà nessuna invasione ed è quello che gli ucraini dicono a me, evidentemente a qualche amico dell'Ucraina, e tu dici che sono spaventati, ma non credono che poi possa esserci l'invasione. Sono tranquilli, scrive anche questo amico. E va bene, e poi lui dice, poi pure noi dobbiamo seguire gli americani con le sanzioni. Poi c'è tutto il tema delle sanzioni, bisogna essere molto cauti in questa fase. No? Sì, è quello che dicevo prima, non abbiamo la sfera di cristallo. Sappiamo che la tensione è altissima, l'impressione che stiano giocando a carte coperte, a poker, vediamo. Per il momento però, quello che posso dire dal punto di vista economico, non c'è un effetto collaterale sul piano del rifornimento di energia, perché la Russia continua a garantire il gas all'Italia. Vediamo se alzerà il prezzo ovviamente per minacciare l'Occidente, quello è un altro progetto. Eh no, 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 ma infatti le rassicurazioni sul fatto che avrebbe continuato a rifornirci. Inoltre Putin continua a dire, europei continuano a dire che non invaderà l'Ucraina. Vi ricordate il famoso tavolo lungo con Macron e Putin? Lì gli ha detto che non avrebbe invaso l'Ucraina. Poi tutto può essere. Anche noi siamo, anche noi che tra l'altro siamo in chiusura stamattina del giornale, non sappiamo, siamo anche in difficoltà, cioè è molto complicato anche scrivere qualcosa adesso quando il giornale poi uscirà, che magari ci saranno degli sviluppi, quindi siamo un po' più chi va là. Ecco, ecco, un'ultima domanda. Guarda, mi hai letto nel pensiero, ti stavo chiedendo su quali altre, vabbè, queste sicuramente sono le questioni su cui starete ragionando con il nuovo numero. Altre questioni che state evidenziando in questo periodo, Francesco, o sono quelle di cui abbiamo parlato? Noi abbiamo dedicato una copertina al caro Bollette perché era fondamentale. Poi ci sono altre questioni di tipo etico perché la consulta sta per vagliare i numerosi referendum proposti dai vari comitati promotori sulla giustizia, sull'eutanasia, sul suicidio assistito. Sì, sì. E poi ci sono, appunto, come dicevo, le questioni economiche che sono molto importanti perché c'è gente che veramente stringe la cinghia. Non dobbiamo abbassare la guardia sulla pandemia, anche se ci sono molti segnali ottimistici all'orizzonte. E poi questo conflitto mondiale ci voleva proprio, vero Manu? Dopo una pandemia, dopo due anni così drammatici, tragici, ci mancava solo la guerra. Infatti l'ho detto anch'io, non bastavano tutte le... Non bastava quello che abbiamo vissuto, purtroppo il mondo è così. Esatto, esatto, esatto. Speriamo, speriamo. Bisogna per quello avere sempre mille piani B, anche se poi in questo caso quando subentrano questi cigni neri, non so se poi potremmo definirlo cigno nero, l'eventuale guerra, però insomma non si può far molto, però bisogna sempre stare allerta, assolutamente. Senti Francesco, io ti ringrazio naturalmente, Francesco Alcorsi, ti seguiamo su Famiglia Cristiana, caporedattore Economia e a presto sulle fonti TV. Grazie. Arrivederci.